Oltre 200 gare, 1000 atleti, 68 associazioni sportive dilettantistiche, 15 discipline e 20 comuni coinvolti. Sono solo alcuni numeri della prima edizione della Olimpiade Metropolitana. Promossa dalla città di Bari con il patrocinio del CONI regionale, la manifestazione nasce nell'ottica di promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative, tese a favorire valori come inclusione sociale, appartenenza al territorio, salute, benessere psicofisico e aggregazione. L'Olimpiade Metropolitana coinvolgerà dal 10 al 17 dicembre i comuni di Adelfia, Altamura, Bari, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellammare, Corato, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, San Michele di Bari, San Nicandro di Bari, Terlizzi, Trigiano e Turi. La Kermess prevede tornei sportivi di atletica, baseball, basket, calcio a 9, calcio a 5, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karate, palla a mano, pallavolo, pattinaggio, taekwondo, tennis e tennis tavolo che si svolgeranno all'interno degli impianti sportivi dei comuni aderenti e coinvolgerà gli atleti delle società sportive nati tra il 2008 e il 2009. È un'occasione di mettere in rete i 41 comuni dell'area metropolitana con le associazioni sportive, le scuole, con le squadre che sono presenti nelle nostre comunità. Ci metteremo in competizione, una competizione sana tra comuni, associazioni, squadre, un modo per fare sport pensando al benessere fisico, psicologico, ma anche per tornare tutti insieme a fare comunità.